Il numero 6 Una volta interiorizzato il distacco, il sesto passo ci accompagna alla scoperta dell'armonia e della visione, per vedere ciò che ci circonda da diversi punti di vista e unirci alla visione del tutto. Siamo nel chakra del terzo occhio che è legato all'intuizione e al pensiero extrasensoriale ed è ostacolato dall'illusione. La lamina numero 6 dei tarocchi è quella dell'innamorato che rappresenta la scelta, l'unione e l'emotività. Se guardiamo alle virtù e ai peccati capitali della dottrina cristiana come archetipi, al di là del precetto religioso patriarcale, la virtù teologale di questo passo è la speranza che nell'attesa del completamento del percorso ci colma di gioia e di fiducia, insegnandoci a leggere i segnali che si manifestano intorno a noi nella vita quotidiana. Il peccato capitale corrispondente è l'invidia, legata alla paura della perdita, del valore personale e alla foga di impossessarci di quello altrui, rendendoci cieche ed egoiste. La domanda per le nostre mistiche, come possiamo aprire l'occhio della visione? Il sesto nome della minne, la signora amore, per Advech, è il fiume profondissimo in cui gli amanti vengono gettati dalla beatitudine e dalla follia dell'amore per ricevere Dio nella trinità. La rugiada si è trasformata in fiume e la cui sorgente è divina, così come la sua foce. Si continua la discesa verso il fondo alla scoperta di ciò che è puro e vero. La sesta maniera di amare Dio, secondo Beatrice, è l'unione intima e la conoscenza profonda che portano sicurezza, pace e libertà e mettono fine alla concezione individualista e contraddittoria della condizione umana. Nella gioia come nella sofferenza, ogni azione diventa facile, gradevole e degna della minne, che è ormai sovrana dell'io. Beatrice scrive che l'anima sperimenta così la potenza divina, una purezza lucente, una suavità spirituale, una libertà fervente, una saggezza che fortifica una sintonia con e un'intima scienza di Dio. Nessuna paura la turba più, nemmeno il timore per Dio e inizia a vivere una vita angelica e nobile. Per Margherita, al sesto stato di grazia interviene il lontano vicino, un lampo che prende l'anima e la porta a sperimentare l'unità per poi riportarla allo stato precedente. In questi momenti ella non vede più né se stessa né Dio, ma è Dio che si vede in lei e lei che si vede in Dio, in un'unità che ha purezza, luce e bontà. Il lontano vicino è un concetto che dama amore e lo sposo dell'anima si rifiutano di spiegare, ma come in Advech viene identificato con la trinità che opera per l'anima annichilata e dentro di essa, togliendole ogni conoscenza umana per elevarla alla conoscenza e alla gloria divina. Trascendere il concetto di spiritualità significa anche rinunciare alla spiritualità stessa. Dice l'anima rivolgendosi a Dio, io, mi libero di voi e di me e del mio prossimo. E in questo sta l'annichilazione, ossia il distacco da qualsiasi attaccamento che tanto avvicina lo specchio di Margherite al GCO di Uldi Maggig. Dio è abbandonato in sé da sé, egli non è conosciuto né amato né lodato da tali creature, se non in quanto non lo si può né conoscere né amare né lodare. È la somma di tutto il loro amore e l'ultimo tratto della loro strada. In questo forte movimento del lontano vicino, lo sposo celeste dona tutto se stesso all'anima, la quale, tramite il libero arbitrio e la volontà individuale, ha la possibilità di scegliere se accettare quest'offerta. La mia volontà egli me l'ha data liberamente e per questo non può rieverla, se ciò non piace al mio volere. La sovrabbondanza dell'amore e della sua bontà mi ha dato, per amore, una tale nobiltà che da parte sua non può mai essermi tolta la libertà del volere se io non voglio. Il pegno per questo dono divino, quindi, è la volontà individuale che ci è stata fornita per scegliere il divino in consapevolezza e nell'amore. Come abbiamo visto per Advech, il flusso del fiume è quello di ritornare all'unità, dalla sorgente alla foce. Lo sguardo è quello di entrambi gli occhi, quello interiore e quello esteriore e in questo modo l'anima diviene pura e chiara, ma non ancora totalmente glorificata, passaggio che avviene nello stato successivo. Nelle seste dimore del castello interiore di Teresa l'anima viene messa alla prova per potersi risvegliare. Gli ostacoli che le si pongono davanti sono di diverse entità, alcune sono piccole pene dovute alla perdita di amicizie, derisioni, maldicenze, altre sono insopportabili e opprimenti, come nel caso di infermità e malattie che la sconvolgono sia all'interno che all'esterno. Anche le lodi sono considerate prove da superare perché insinuano nell'anima il timore di essere usata per scopi non affini alla volontà divina o per recargli danno. Dice Teresa, gli uomini sono pronti a dir bene come a dir male, cosicché non fa più conto di una cosa che dell'altra. Perciò esorta le sue sorelle a rafforzarsi nell'umiltà e nella consapevolezza che non si possiede alcun merito personale perché tutto viene dall'amore e dalla bontà dello sposo. L'inganno è un altro ostacolo per quelle anime che lasciano che l'immaginazione prenda il sopravvento sull'intelletto che diviene incapace di vedere la verità. La paura di far del male involontariamente e di non meritarsi la bontà del re fa scaturire una lotta interna senza consolazione. Molti interiori, moti interiori ben descritti da Advech e Beatrice, solo l'intervento divino può liberare l'anima da tali angosce con un evento fortuito come una parola udita all'improvviso. Ciò le rammenta il grado della sua miseria e la nullità della sua essenza. Ma anche queste sono trappole e mettono l'attenzione sui peccati in modo tanto profondo che nemmeno l'orazione è più di conforto. La solitudine non è più un giovamento, ma non si riesce a godere nemmeno della compagnia, manifestando costantemente malumore e fastidio. soltanto la misericordia divina può aiutare quest'anima attraverso opere di carità che arrivano dall'esterno e che aprono un varco al tormento. Allo stesso tempo in queste mansioni lo sposo divino aiuta l'anima della sua amata facendole sentire la sua presenza e il suo amore in modo profondo attraverso impulsi improvvisi che portano sia a sofferenza che godimento contemporaneamente. L'anima è scossa sia interiormente che esteriormente, il corpo trema e geme per una ferita piacevole da cui non si vorrebbe mai guarire, un colpo che lacera l'anima, una saetta di fuoco che rapidissima brucia la natura terrena e immobilizza le potenze. Teresa spiega in modo molto dettagliato ciò che Hadweich e Beatrice sperimentavano e mettevano in versi tre secoli prima. Attraverso parole indimenticabili sussurrate direttamente da Dio arrivano visioni intellettuali e statiche chiare e illuminanti che infondono pace, quiete e luce. Oppure durante l'orazione il corpo fisico perde i sensi ma l'anima è sveglia e desta. Teresa in queste dimore spiega molto bene ciò che succedeva anche a Hildegard von Bingen durante i suoi momenti di catalessi. Questi rapimenti possono assumere una forma molto potente che Teresa chiama volo dello spirito. L'anima sembra separarsi dal corpo e viene trasportata in un mondo di luce dove le vengono insegnate verità profonde attraverso visioni immaginarie che travalicano l'intelletto e il linguaggio stesso. Come abbiamo visto con Beatrice nel suo quinto modo di amare il corpo si raffredda, il respiro viene a mancare e al risveglio si ha uno stato di confusione che può durare giorni. L'anima che ha visto i beni preziosi che lo sposo le ha promesso si sente sola e tormentata, disprezza tutte le cose terrene che vive con grande pena e vuole dedicarsi interamente all'amore per il quale è pronta a fare qualsiasi ammenda. In questi momenti l'orazione e la imitazione sono fonte di gioia infinita e indefinibile e permettono l'unione delle potenze e dei sensi. Nel castello dell'anima Edith Stein spiega che in questa dimora si impara a riconoscere la voce divina la quale purifica dalle sofferenze che scaturiscono dall'assenza dello sposo. Questo passo ci insegna che l'occhio della visione si allena tramite la costante e distaccata attenzione al mondo che ci circonda. Questa capacità di vedere è un dono immenso che ci connette con il tutto ma esso non dipende interamente da noi e non lo si può acquisire meccanicamente. Noi siamo potenziali destinatari di questi messaggi che si palesano improvvisamente quando meno ce lo aspettiamo. Come canali tra cielo e terra possiamo permettere e partecipare a questo scambio di informazioni e di immagini ma non possiamo controllarle. Il nostro compito è quello di essere presenti a noi stesse e pronte a ricevere in quello stato di umiltà, empatia e accoglienza che Edith definiva tipico delle donne. Beatrice infatti ci ricorda che è proprio il cuore il fulcro del percorso e che per aprirsi al divino e ricevere i suoi doni serve innanzitutto donarsi a lui in fiducia, umiltà e amore.